Siamo con Paola Zatti, direttrice artistica di Spazio Danza di Vigevano, uno dei tasselli fondamentali qui nell'Italian Music Talents. Però parliamo anche della danza non solo dal punto di vista delle aspirazioni professionali di chi spera naturalmente di affermarsi come artista a livello nazionale o internazionale, le cosiddette etuale o insomma comunque anche professioniste della danza moderna. Ma parliamo della danza anche come elemento educativo. Perché ne discutevamo prima dell'intervista, la danza per esempio nelle scuole italiane non c'è. Perché? Mi piace moltissimo questa domanda perché mi offre l'occasione di poter esprimere un mio pensiero assolutamente personale, ma che ritengo che sia una mancanza a livello culturale di quest'arte a livello espressivo, a livello di crescita per i nostri bambini, i nostri ragazzi nelle scuole. Quello che c'è è lasciato alla libera iniziativa di magari insegnanti o presidi che vanno un pochino oltre. Oppure all'interesse che magari trasmissioni a livello nazionale o anche questi tipi di iniziativi dei talent. Lei ha collaborato anche con trasmissioni nazionali? Sì, ho collaborato con reti nazionali di primaria importanza come consulente artistica per alcuni anni. E anche la nostra coreografa che dà la nostra partecipazione a questo talent, anche lei arriva da un'esperienza professionale di un certo livello. Però riteniamo che sia importante lavorare alla base, con una sana attività educativa, di movimento, di cultura, di approccio, proprio per offrire ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, anche ai portatori identiche, anche ai meno giovani. Anche non limitiamoci forse alle scuole, ma anche andiamo oltre, visto che anche l'età media cresce, proprio perché rappresenta un momento importantissimo di prevenzione di tutte le varie forme, ma anche di conoscenza personale, se non a livello di gruppo. Quindi anche di controllo in qualche maniera, diciamo, del proprio corpo? Di conoscenza e controllo? Conoscenza, controllo e arricchimento, reciproco e soprattutto con se stessi, esattamente. Perché vigevano? Qui siamo vicini a Milano, che è molto più grande. Qual è il valore aggiunto di questa città? Il valore aggiunto è proprio quello, i pregi e i limiti della piccola realtà, che è più facile forse ottenere determinate situazioni perché c'è il passaparola che arriva, e quindi questo è positivo e il limite è proprio la chiusura che invece l'essere piccolo produce. Però siamo proprio la vicinanza con Novara, Milano, eccetera, Pavia, ci offre comunque un'apertura di un certo tono. Un consiglio per i giovani che vogliono affermarsi nella danza, stanno rincorrendo il successo? Innanzitutto quello di avere tanta voglia di lavorare, tanta, 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 di studiare senza aspettarsi i riscontri che a volte forse i genitori, alcuni anche insegnanti di danza creano false aspettative. No, ormai c'è modo di confrontarsi grazie a Italia, grazie a YouTube, grazie a Internet, grazie alle televisioni private, pubbliche, eccetera, di confrontarsi di non smettere mai di crescere, di non sentirsi mai arrivati, mai. Grazie.